Cap e Kazoo sono diventati troppo vecchi per le mode dei giovani d'oggi Per loro fortuna c'è in casa la figlia di Cap che insegnerà loro a diventare Dei veri TikToker Iscrivetevi al canale Ma come cavolo sei vestiti in sto video? Scusa un attimo ma che faccia fai? Ti sei visto? Dico ti sei visto? Mi lasci guardare la tv per favore Ho capito scusami Ma scusa un attimo sto guardando la storia, l'arte Guarda che cosa interessante Ma guarda che faccia che fai altro che storia che arte Mamma mia questi giovani d'oggi sono tutti quanti stupidi Ma cavolo ma hai iscritto al canale aspetta un secondo Ma giusto sì iscriviti e clicca il tasto rosso Però accolturati un minimo per favore Ma sto guardando i miei video che cavolo vedevo culturare Ma vogliamo parlare di questa storia? Guarda qui che affresco meraviglia Ma vogliamo parlare di questa guarda non l'hai nemmeno trovata Ma te l'hai visto in box ma che cavolo vuoi fare? Ehi Oh l'arte quanto interessante Ma la smè Ciao Ciao Ma di che cavolo state parlando? Io sto guardando i video di cappuccaggio Guarda che cavolo combina cappuccino in questo Ma io mi chiedo se è normale a volte Io invece mi sto accolturando Sto guardando un po' di storia Un po' di geografia Un po' di affreschi monumentali Ma questi sono veramente stupidi Oh Sì Ehi no no Stai voglia di andare a vedere il video Sto guardando il video Sto guardando la televisione Ma non ci posso dire Ma non ci posso dire No infatti No a me 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 no No Calma si A me no Calma si Per favore Lascia il bacio a cap Aglio 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 Per fare un po' di piano Al gioco a l'orecchio che mi fa veramente male Con calma Con calma Ti seguiamo anche se non ci tiri le orecchie Sì Appunto infatti possiamo anche seguirti senza che tu ci tiri le orecchie Quindi sentiamo carissima Chiara figlia di cup perché ci hai portato in camera sua Sì appunto E la cosa Cosa vuoi giocare Vi voglio insegnare i balletti di tiktok I balletti di tiktok No Io balletti Chiara Chiara ti chiede una cosa Io non so fare un balletto Io non so ballare È vero Io non li so fare Chiara l'ho provato Sì Ascolta ma il problema è che io volevo tornare di là a guardare i miei Ok ok facciamo i tiktok Iniziamo con un po' di stretching Ora fate i rubori Oh cavolo Ok inizio Inizio Sono un professionista in questi posti Anche cosa no E cosa dobbiamo fare Sentiamo fammi Tu davvero vuoi insegnare a me No Dobbiamo fare entrambi Ma come entrambi Ma ascolta Io sono più bravo Ok lo facciamo Ma come spostati che ti puoi fare male E ti sei una partita E infatti Lascia a fare i problemi Sì Ciao Ciao Guarda come si fa 3 2 1 Va bene È perfetto Ma come no Ma come no Aio Aio Vi do Zero Ma come zero Ma come zero Sentiamo se è una professoressa Per caso Che dai voti È un'altra partita Io non ci voglio essere Stiamo facendo stretching Guarda Allora Io prima la cosa della gamba Lo sono fatta Quindi io sono passato No 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 Nessuno da lui Siete passato Mamma ma non sono passato Guarda Fino lì così Non si può vincere E sentiamo Facci fare un altro esercizio Dai ti faccio vedere Come lo riesco a fare questo è facile credo che lo sapete fare questo lo scivolo vai 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 mi ha distruppato no 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 ragazzi allora o fatele i gioci bene o veramente vi caccio con questo pensavo che fosse scaricato io ci credo va bene li facciamo guarda guarda guardami osservami attentamente sei tu che è sbagliato ok però tu hai fatto zero quindi tu vai io ma io l'ho già fatto allora si vede che è rigirata perché l'ho già fatto va bene lo faccio anche io ok ok mi muovo ma com'è che si fa non mi ricordo no no non te lo rifaccio ma te lo rifaccio no 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 questo bomba si è preso ei ecco il foggia mio non prenderlo nopre no no hey boy guarda che ti sparo stiamo scherzando non ci sono anche i proiettili ma come non ci sono i proiettili Io non dire cose compromettenti Non dire cose compromettenti Assolutamente no Chiara possiamo fare qualche altro Non possiamo fare niente Qualche altro riscaldamento Vediamo mostraci un altro esercizio E' un'invecina E di nuovo vi do un altro zero Due zero E adesso si fa la spaccata Oh ca... Lì sta bene Guarda quanto so fare bene la spaccata Invicine Ehi Ho spessi Io so Cosa non avete Cosa L'outfit adatto Questo no Ma ehi Chiara Chiara che cavolo stai facendo Chiara fermati un attimo Chiara Ragioniamo Parliamolo insieme Chiara Chiara Ma porca miseria Chiara questo non puoi rimettere qua Ma com'è quello Ma Chiara questa è di cazzo No te la metti Va bene E ti devi mettere anche questa Ma qua è il mio giubbotto Che cavolo ci faccio con il giubbotto in casa Va bene Metti quella Ok Cosa dobbiamo fare Io sono la poliziotta tiktoker E sentiamo poliziotta tiktoker Cosa dobbiamo fare Vi insegnerò a fare Il tiktoker Stai niente Ok No No Per me Avete infronto le le Io non ho fatto niente Io non ho fatto niente Va bene Va bene Va bene Ok Ma puoi spiegarci una cosa Perché io sono vestito da super mario E Io sono una principessa Principazione E tu perché la poliziotta No questi sono proprio astuti Eh poliziotta hai perso il cappello Ok Vieni Ecco Non è il pepello E' proprio astuto Allora Ah ah A me non si toglie Gagli quello E Ma cosa Su dai Lo so che ce l'hai lì dietro Ok poliziotta Eccolo Assolutamente Non faccio più Il cappello di super mario Spetta a super kazu Oh Niente Che c'è Ma tutto Dai Sta Rappiando Aio 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 Cavolo Partiamo con il primo tiktok Guardatemi Attentamente Ok poliziotta Allora Poliziotta Il tuo suo cappello Poliziotta Venga Aio Poliziotta Non hanno pianti Poliziotta Il suo cappello Aio Allora Allora Questa volta Lo fate con me Se Sbagliate Soltate una mossa Vi 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 Ok Va benissimo Vai partiamo Perfetto No Allora 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 Adesso Vorremmo Il primo tiktok Ok Ok Allora 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 Tu Mi hai fatto Io ho fatto Dè Si è vero Lui è vero No Non male Non male Cavolo Correte subito qui Eccoci Faceva parte del tiktok questa cosa Allora Allora Iniziamo Siamo pronti Adesso Siamo sedi Tra male Sono pronto Ok Che Ti so Restato Ehi Ma come arrestato No Non non posso riposare i miei hamburger vieni guarda un po' libero sono libero non puoi parlare di cosa aiuto via ora facciamo un altro ovviamente mi ha rabbia giusto io sono prontissimo prontissimo eh si allora non ti vedo non ti vedo non ti vedo ok e vi faccio vedere il prossimo tiktok ok siamo pronti io un po' meno i piedi si tengono va bene siamo controllati girati girati così mamma mia non capisco i piedi eh lo so manco io ci capisco più niente oh sei il primo che parti sì allora adesso facciamo il prossimo tiktok bene ci seguiamo allora il prossimo è uoci co uo cuba cuba dire no le tasse no 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 valizioso No sto scherzando Come stai scherzando Siete un arrasso No per favore Per favore